Di nuovo in diretta per il primo dei nostri approfondimenti di oggi in studio, c'è il giubileo straordinario, certo c'è il tema del bilancio che è in discussione ancora in queste ore e in questi giorni, ma c'è come abbiamo letto ampiamente anche nella nostra rassegna stampa iniziale l'ennesima bocciatura ormai da parte del Tarra, la quarta in pochi mesi nei confronti di un provvedimento del Campidoglio e della Giunta Marino, in questo caso quello sulla sosta tariffata, sulle strisce blu, per capirci. Insomma c'è un Campidoglio in fermento e c'è un alu a Giulio Cesare con gli scranni pieni di dossier diversi, allora ringrazio per essersi sganciato e averci raggiunto in studio il consigliere Movimento 5 Stelle Enrico Stefano, consigliere in assemblea capitolina, insomma sono ore di duro lavoro immagino in Campidoglio per il bilancio, ma poi arrivano come vediamo anche altri temi e partirei con lei dal giubileo per chiederle se secondo lei è un'opportunità o un evento da vivere con paura da parte dei romani, con timore. Visti gli ultimi mesi sicuramente più paura che opportunità perché abbiamo visto come è gestita e probabilmente è ancora gestita la nostra città, insomma ricordiamo tutti le vicende di mafia capitale che non sono assolutamente terminate, anzi probabilmente sono ancora all'inizio, abbiamo visto l'altro giorno la vicenda che ha coinvolto anche il direttore dei lavori della Metro C, della tratta T3, quindi insomma in questo contesto andare a ricorrere ancora una volta a degli eventi straordinari che siano le Olimpiadi piuttosto che il giubileo per fare poi invece dei lavori, delle operazioni che dovrebbero essere l'ordinario perché un trasporto pubblico efficiente piuttosto che la pulizia delle strade, piuttosto che la raccolta rifiuti dovrebbero essere la normalità e dovrebbero funzionare a prescindere dal grande evento di turno, grande evento di turno che poi non fa altro che attirare grossi capitali, talvolta più speculazione che altro, l'abbiamo visto ad esempio, io cito sempre la città dello sport a Tor Vergata, lo stadio del nuoto che doveva essere pronto per i mondiali appunto di nuoto del 2009, i mondiali di nuoto si sono svolti al Foro Italico ma a Tor Vergata è rimasta questa vela che costa più di 200 milioni di euro ai cittadini romani, quindi al momento abbiamo più ombre che certezze. Diceva qualcuno più saggio di me che la normalità a volte è la rivoluzione, quindi chiedo se non si è parlato di grandi opere, anzi Marino ha messo chiaramente in campo un piano che non preveda la realizzazione di nuove opere o almeno di nuove grandi opere, anche perché non ci sarebbe anche il tempo materiale probabilmente per portarle a termine, ecco normalizzare quello che dovrebbe funzionare nella quotidianità e la ricetta per far funzionare il giubileo. Quello assolutamente sì, però come dicevo non è che dobbiamo aspettare un giubileo per vedere le strade senza buche o pulite o piuttosto il film di 007 che deve essere girato e quindi si ripulisce tutto quanto, sono appunto aspetti che dovrebbero essere normali per lo più per una città, una capitale europea come Roma e che invece aspettano il grande evento è la grande opportunità, quando invece appunto la normalità è la vera rivoluzione. So che, insomma, parlavamo anche ieri qui con il vostro capo gruppo, con Marcello De Vito, vi state molto concentrando anche sull'aspetto ovviamente dei finanziamenti, su come matureranno i finanziamenti per realizzare questo grande evento, di oggi è la notizia che c'è stata una sorta di dietro fronte su un'ipotesi che era circolata ieri, ieri si era parlato di non pagare, comunque di congelare la parte di Roma Capitale, il pagamento di quella parte dell'aliquota IRPEF che attualmente va alla gestione commissariale per ripienare un debito che è frutto anche del giubileo di 15 anni fa, che comunque è prima del 2008, il Ministero delle Finanze ha detto no a questa ipotesi, a questo punto le chiedo da dove arrivano i soldi, seppur minimi, come viene detto dal Governo, investimenti, da dove arrivano per alcuni? Ma volendo nella nostra città i soldi si potrebbero trovare, lo abbiamo denunciato in questi due anni anche con la Presidenza della Commissione Revisione della Spesa, ci sono tanti tantissimi sprechi che tuttora permangono nella città di Roma, da mega dirigenti pagati 200-300 mila euro l'anno che non si sa bene che funzioni svolgano, a tante altre opportunità che vengono perse, il suolo pubblico della città regalato, insomma tanti tanti altri aspetti che potremmo analizzare per dire che i soldi ci sono, però ripeto ancora una volta che i soldi ci devono essere per la manutenzione ordinaria di questa città, una volta che si è messa a posto la manutenzione ordinaria di questa città, una volta che questa città è ordinata, faccio non so l'esempio del bike sharing, ancora oggi noi non abbiamo il bike sharing a Roma anche se non si capisce come mai perché in tutte le altre città europee il bike sharing è finanziato con i proventi della pubblicità. Anzi le dico che i nostri archivi sono pieni di immagini di motorini parcheggiati negli stalli delle vicine. Quindi una città del genere deve essere prima ripulita completamente da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista di mafia capitale che fisicamente dalle strade e poi si può pensare di ospitare un evento del genere, ribaltare le cose e rincorrere poi gli eventi perché il giubileo è questione di mesi, non è questione di anni, rischia di far fare tutto di fretta nell'emergenza e poi sappiamo nell'emergenza quello che succede. Il dibattito è brutale però giustamente c'è chi sostiene che il Papa non possa preoccuparsi del fatto che non passi l'autobus a Roma ovviamente, che quindi ci sono delle esigenze spirituali diciamo che sono superiori a quelle profane dell'amministrazione, però d'altro canto c'è chi dice vabbè Roma comunque adesso si trova ad ospitarla, questa manifestazione non può sottrarsi al ruolo di capitale della cristianità. Quello assolutamente sono opportunità che vanno colte, anche perché io sono il fautore del tutelare, adesso parliamo del giubileo per parlare del turismo in senso lato, io anche oggi scendendo in Campidoglio, per fortuna la nostra città è ancora piena di turisti, ma io quello che dico, turisti, pellegrini, insomma sia per motivi religiosi che non, questa è una risorsa che va valorizzata, i turisti vanno protetti, invece oggi i turisti basta passeggiare per il centro e ogni 10 metri si trovano invasi da chi gli vuole vendere la bacchetta per il selfie, chi gli vuole vendere gli occhiali da sole, chi gli vuole fare la foto e chi più ne ha più ne metta. Allora in questo contesto come accogliamo le persone in questa città? Ad oggi non vengo, io certe volte mi domando e sono veramente impaurito anche perché il turismo forse è l'unica risorsa che è rimasta in questa città, dico con quale coraggio i turisti vengono ancora a visitare Roma che è una città purtroppo degradata, sporca, anche nel centro storico più prezioso, io sono nato e cresciuto e vivo in periferia, nella periferia più estrema, quindi purtroppo non è che lo sto giustificando ma sono talvolta abituato al degrado, ma è assurdo pensare che una città, un centro storico patrimonio dell'UNESCO sia trattato e gestito in questo modo? Io le metto sul tavolo tre temi che mi sembrano i più urgenti in vista dell'organizzazione, di un evento come quello del giubileo straordinario, il trasporto pubblico, la sicurezza, visto anche lo stato di crisi internazionale, il fatto che Roma è dichiaratamente nel merino di un'organizzazione come quella dell'ISIS e poi penso al decoro ma anche nel senso dell'opportunità di ricevere i pellegrini, quindi le strutture ricettive di questa città, sono forse i tre punti che andrebbero affrontati da qui a dicembre a questo punto, conoscendo la realtà quotidiana di Roma, vivendola dal Campidoglio, è plausibile che Roma ce la faccia a rimettersi in pari per dicembre? Ma poi come tutte le cose è una questione di volontà, io per esempio parlo del trasporto pubblico, sto facendo da due anni in Campidoglio una battaglia sulle corsie preferenziali, perché tutti quanti sappiamo che Atac ha degli enormi problemi, molto spesso, quasi sempre riconducibili a delle dirigenze comunque che non hanno svolto a pieno, nella massima trasparenza i loro compiti. Uno dei problemi principali di Atac è che i suoi autobus, per quanto siano vecchi di 15 anni, sono fermi nel traffico. Io ho detto e l'ho strillato in tutti i modi, ho presentato una delibera che sto cercando di far calendarizzare in aula, basterebbe aumentare le corsie preferenziali, ovvero delle porzioni di strada dedicate agli autobus, al trasporto pubblico, in questo modo l'autobus potrebbe andare più veloce, sarebbe finalmente competitivo, veramente competitivo rispetto al mezzo privato. Atac risparmierebbe anche dei soldi, perché come tutti noi sappiamo se un mezzo, una macchina piuttosto che un autobus va più piano, consuma di più e inclina di più, quindi incide in costi direttamente di carburante e indirettamente dal punto di vista ambientale e della salute, Roma ad oggi ha solamente 100 km, neanche 100 km di corsie preferenziali, si potrebbero aumentare in maniera esponenziale le corsie dedicate al trasporto pubblico a costi contenuti, perché si tratta di proteggere delle corsie e ne beneficerebbero i cittadini, gli utenti e ovviamente anche degli eventuali turisti o pellegrini. Quindi ripeto, ci sarebbero tante idee a costo zero che potrebbero cambiare la città. Con la volontà si può? Quindi ce la può fare? Volendo sì, ripeto, ho fatto questo esempio che non comporta dei costi, non stiamo parlando di una linea di metropolitana piuttosto che altro, è un qualcosa che in tre mesi si può fare tranquillamente e già cambierebbe il volto della città, anche perché poi le corsie preferenziali sono importanti, mi riaggancio anche alla seconda domanda, dal punto di vista del decoro, perché riqualificano le strade. Delle strade, soprattutto se la corsia preferenziale è protetta da cordoni o da telecamere, prevengono la sosta selvaggia, quindi tutta un'altra serie di pericoli, anche per la sicurezza, di pedoni e ciclisti che ad oggi invece si trovano in una vera e propria giungla. Il tema giubileo straordinario sta influenzando in che modo la discussione che è in corso sul bilancio? No, devo dire, al momento non è che la stia influenzando almeno direttamente, anche perché questi lavori del bilancio, lo dico mio malgrado, procedono in maniera abbastanza a rilento. Questa giunta ha eliminato due provvedimenti che erano il regolamento sulla tassa di occupazione suolo pubblico e sulla tassa di soggiorno, ne ha introdotti di nuovi che io penso e ritengo si erano dimenticati, come il piano finanziario di Ama, quindi è una situazione molto confusionaria, devo dire. Purtroppo io, nonostante sia un consigliere abbastanza giovane, non avevo mai visto un qualcosa del genere, cioè provvedimenti che vengono cambiati in corsa, provvedimenti che sono aggiunti all'ultimo momento, quando invece il 31 dicembre 2014 il sindaco Marino aveva detto che per la prima volta nella storia di Roma il bilancio è pronto, è stato presentato nei tempi conguri, invece ci siamo ritrovati il 10 marzo ancora a vedere cambiate le carte. Però diamo atto a Marino che effettivamente sarebbe il primo sindaco a farcela entro marzo 2015 a provare un bilancio dell'anno in corso. Sì, forse sicuramente il cambiamento da quel punto di vista gli va riconosciuto, però poi bisogna andare a vedere anche il contenuto di un bilancio che a noi sembra più o meno lasciare le cose come stanno. Il tema che state sollevando spesso in aula è quello della dismissione di alcune società, penso alle assicurazioni di Roma, a Farmacap in particolare, da questo punto di vista ci sono dei margini per far cambiare idea alla maggioranza? Noi ce la stiamo mettendo tutta perché pensiamo siano dei provvedimenti assurdi, io faccio sempre l'esempio, ci sono delle municipalizzate di Roma Capitale che non hanno prodotto nulla, faccio l'esempio di Roma Metropolitane che era la società, la SRL costituita in epoca Veltroni che doveva controllare lo svolgersi dei lavori della Metro C. Ebbene la Metro C ha visto dei costi raddoppiati, dei tempi anche raddoppiati perché San Giovanni doveva essere consigliato nel 2011, lo sarà forse nel 2016, si è passati da un miliardo e mezzo a oltre 3 miliardi, quindi io vorrei capire Roma Metropolitane che cosa ha fatto, con tra l'altro 11 dirigenti, tutti quanti stipendiati tra i 100-150 mila euro, ovviamente molto poco. Ebbene in una società come questa viene mantenuta in piedi. E poi noi andiamo a chiudere, Assicurazioni di Roma o Farmacup che se gestite bene, io non ho mai visto un farmacista cadere in miseria e anche Assicurazioni di Roma svolge un ruolo molto importante, pensiamo al fatto che assicuri i mezzi di Atac, senza Assicurazioni di Roma Atac deve andare sul mercato a trovare qualcuno che la assicuri e conosciamo tutti la situazione di Atac, sarebbe sicuramente un'impresa molto alta. Oggi il messaggero ci dà uno strumento per difendere però Atac e ama perché ci dice il messaggero che aspettano ancora i soldi del giubileo del 2000 da Palazzo Chigi, quindi insomma i bilanci ci sono si disastrati ma ci sono anche dei crediti che queste aziende vantano. I trasferimenti della regione, no no no, quello siamo assolutamente d'accordo. A proposito di mobilità, è arrivata, magari sentiamo prima al servizio di Benedetta Bertini per ripercorrere le linee guida di una sentenza del Tar che per la quarta volta in pochi mesi, questo è il dato politico interessante, ha bocciato un provvedimento della giunta a Marino. In questo caso è quello sulle strisce blu. Sentiamo. Il Tar sulle strisce blu è stata comunque una doccia fredda per il Campidoglio. I giudici amministrativi della seconda sezione hanno bocciato le nuove tariffe ed annullato dunque i rincari decisi dall'amministrazione Marino con una delibera lo scorso 29 luglio. Tornano così le tariffe agevolate giornaliere da 4 euro per 8 ore continuative introdotte dalla giunta Alemanno e quella mensile da 70 euro. Secondo il Tar, il Campidoglio ha utilizzato ingiustificatamente la leva finanziaria quale strumento esclusivo per migliorare l'utilizzo degli spazi di sosta tariffata. Quella di oggi non è la prima sconfitta dell'amministrazione Marino di fronte al Tar. I magistrati del Tribunale amministrativo avevano infatti già bocciato altri due provvedimenti, l'aumento dei costi e dei permessi della ZTL e quello relativo alle tariffe degli asili nido. Nella sentenza, scrivono i giudici, non vi è stata alcuna verifica circa la domanda di sosta nelle diverse zone tariffate, né alcuna differenziazione è stata operata tra soggetti che provengono da zone già coperte da servizi forti di trasporto pubblico e utenti che invece si spostano da zone periferiche o comunque non adeguatamente servite. A parere del Tar del Lazio, la delibera del Comune dello scorso luglio è caratterizzata da un'istruttoria incompleta e inadeguata, senza contare che il potenziamento e la razionalizzazione della rete di trasporto pubblico avrebbe dovuto precedere e non seguire la rimodulazione della disciplina della sosta. Dura la reazione dell'assessore alla mobilità Guido Improta che ha fatto subito sapere che il Campidoglio ricorrerà al Consiglio di Stato. È una sentenza culturalmente sbagliata, Tuona, perché compie anche delle valutazioni politiche. Se da un lato infatti accetta il fatto che le strisce blu costituiscono un elemento essenziale per la limitazione della circolazione, dall'altro, spiega Improta, dice che dobbiamo tener conto dell'abitudine dei cittadini all'uso dei mezzi pubblici che in una città con 2,8 milioni di veicoli sono da modificare. Intanto in una nota l'Atac fa sapere che a partire da domani il pagamento di un'ora e 50 consentirà la sosta per 75 o 90 minuti a seconda delle zone. Gli ausiliari del traffico dunque terranno conto nell'attività di verifica solamente dell'orario di inizio esposto sui tagliandi. Insomma, Stefano, il TAR contesta sia la razio che la forma della delibera che Improta aveva portato in giunta. Che significa questa quarta bocciatura in pochi mesi da parte di un organo giudiziario come il TAR nei confronti di un organo politico? Sicuramente ci sono dei rilievi importanti. Poi io parlo, io non sono assolutamente uno strenuo difensore del mezzo privato. Per carità ci mancherebbe i dati di quasi 3 milioni di veicoli a Roma inducono a una profonda riflessione sulla limitazione del mezzo privato. Questo siamo d'accordissimo. Però è stato sbagliato il modo in cui è stato utilizzato questo provvedimento perché si è utilizzata la striscia blu e la ZTL per fini più finanziari che di regolamentazione della domanda di trasporto. Non è un caso infatti che la delibera sulla sosta tariffata fu votata come propedeutica al bilancio del 2014. Quindi era chiaro l'intento di cercare di far quadrare i conti anche con queste leve della ZTL e delle strisce blu. Io contesto questo impianto perché tu non puoi da una parte tagliare oltre il 10% delle linee ATAC che vai ad effettuare e allo stesso tempo aumentare la sosta tariffata. Si collega anche al discorso che facciamo prima che sicuramente meno auto private in centro, gli autobus viaggiano sicuramente in maniera più efficiente. Però è anche vero che dall'altra parte bisogna offrire un servizio che sia di un certo livello. Io ho fatto delle foto un paio di settimane fa, ero sul bus 64, quindi anche qui in pieno centro storico è forse l'autobus più frequentato dai turisti e pioveva dentro l'autobus, letteralmente pioveva dentro l'autobus. Quindi come si fanno a contemperare questi due aspetti? E ancora un esempio importante, io seguendo anche la commissione commercio, che poi molto spesso è connessa alla commissione mobilità, ho ricevuto molte proteste di artigiani, piccoli manutentori che devono lavorare nel centro storico e magari hanno la manutenzione delle caldaie piuttosto che degli impianti di aria condizione, mi dicono Enrico, se io devo pagare diverse migliaia di euro l'anno per fare delle manutenzioni in centro storico, chiaramente mi trovo in grossa difficoltà. E anche lì loro fecero una proposta secondo me molto intelligente e molto importante all'assessore in pro dicendo, ok le tue finalità sono di contenere le auto che circolano per il centro, assolutamente va benissimo. Allora noi ci dai una sorta di carnet, diciamo così, io mi concentro i miei accessi in centro storico non so, una o due volte a settimana e non mi fai pagare le 2-3 mila euro che mi faresti pagare normalmente. È una proposta intelligente che andava proprio nella razio di limitare l'utilizzo del mezzo privato e però restò un po' appesa questa proposta. Quindi allora per dire, allora l'intento non è di controllare la domanda di trasporto privato ma è quello di fare cassa, che è un aspetto che non è conciliabile con questi provvedimenti. Notizia tra l'altro di oggi sempre che in bilancio, nella discussione sul bilancio si tornerà a parlare anche del rincaro degli asili nido che era un altro dei provvedimenti bocciati dal Tar. Però gli aumenti non fanno mai piacere soprattutto se poi il cittadino comune non vede i servizi aumentare di pari passo, però qui si sta facendo strada un'interpretazione insomma leggendo anche i retroscena sui quotidiani di oggi per cui Marino comunque cerca di cambiarla la città e il Tar è l'organo conservatore che impedisce il cambiamento. Quindi chiede a un 5 Stelle che ha fatto del cambiamento lo slogan in campagna elettorale. A noi quando si è trattato di apportare dei cambiamenti non ci siamo assolutamente mai tirati indietro, la differenza magari di alcuni pezzi della maggioranza. Faccio l'esempio del piano regolatore degli impianti pubblicitari che è stato sicuramente un lavoro immenso dal punto di vista dell'Aggiunta e che noi abbiamo votato con molto piacere a favore ma pensiamo anche agli unici civili che siamo stati l'unica opposizione a votare a favore e certe volte a mantenere il numero legale perché i consigli di maggioranza non erano tutti quanti presenti in aula. Quindi noi quando si tratta di cambiamento non ci sottraiamo assolutamente ci mancherebbe, siamo una forza propositiva che fa dell'opposizione dura e puntuale il suo modo di essere ma chiaramente quando si tratta di proporre non si tira mai indietro. Il cambiamento di Marino forse esisterà anche ma il problema è che Marino dietro ha un apparato, un partito che sono assolutamente antichi e molto conservatori. Quindi questo gioco che si fa ogni volta tra il Marino che dovrebbe essere rivoluzionario e la sua maggioranza, il partito che lo sostiene che invece poi gli tira un po' i fili è un gioco su cui chiaramente i cittadini romani non hanno molto da guadagnare. Dal messaggero di oggi una notizia perché noi giustamente parliamo di tempi stringenti adesso per agire su alcuni aspetti fondamentali della vita pubblica a Roma in vista di questo evento a dicembre non solo, però se andiamo proprio sulle pagine del messaggero è di oggi una notizia che peraltro vi riguarda perché il vostro esposto l'avevate presentato insomma con faldoni e faldoni di dossier che denunciavano irregolarità o presuntetali in appalti assegnati dal Campidoglio, l'ambito ovviamente è quello dell'inchiesta su Mafia Capitale e oggi la prefettura, il prefetto uscente Pecoraro chiedono altri tre mesi di tempo per poter esaminare tutte le carte, tempi ovviamente comprensibili visto che si tratta di una mole di carte notevoli, però qua ci troviamo a maggio o a giugno con un risponso circa un possibile scioglimento del Comune di Roma nel momento in cui a dicembre, quindi poco dopo dovrebbe partire l'organizzazione insomma la macchina organizzativa di questo evento, sembrano due velocità opposte che non possono non conciliabili diciamo. No assolutamente sì, questo è un altro aspetto extra politico che pesa sulla città di Roma e non poco, però quello che noi abbiamo fatto è portare della documentazione al prefetto che ci siamo sentiti in dovere di farlo in quanto amministratori pubblici e rappresentanti dei cittadini in cui abbiamo portato tutte le carte che noi abbiamo raccolto in due anni che già ci davano un po' l'idea del sistema Mafia Capitale che era e probabilmente forse in parte è tuttora in atto. Poi ovviamente il prefetto dovrà prendere una decisione, ma a quel punto io penso che è un nuovo prefetto, una decisione che poi comunque diventerà inevitabilmente anche politica perché magari, voglio sperare, si chiederà al sindaco Marino di fare un passo indietro da quel punto di vista, prima di arrivare a un commissariamento per mafia della Capitale d'Italia che sarebbe un evento insomma anche di portata internazionale che non apporterebbe assolutamente un beneficio alla nostra città, quindi ci sono diciamo molti aspetti purtroppo gravi che gravano su questa città e sui quali chiaramente andranno presi delle decisioni e soprattutto qualcuno si dovrà assumere delle responsabilità perché ancora una volta questa storia del scaricare il barile su amministrazioni precedenti piuttosto che altro, mentre abbiamo visto quel sistema di mafia Capitale volente o nolente per il sindaco Marino ma era in piedi anche durante la sua amministrazione. Per quanto le intercettazioni, i scagioni non completamente Marino, anzi il sindaco ci mancherete, ci mancherete, assolutamente, però io faccio un esempio, il direttore generale di Ama, ex direttore generale di Ama che è tuttora indagato, fu nominato da Alemanno due settimane prima delle elezioni, allora io gli dico sindaco Marino tu arrivi in Campidoglio, vieni eletto sindaco, la prima cosa che fai è farti accendere dei punti interrogativi su un direttore generale nominato due settimane prima che arrivassi tu, quindi ripeto non è che il sindaco Marino ci mancherebbe come persona, poi abbiamo anche avuto modo di conoscerlo insomma, però c'è un sistema che vuoi o non vuoi si sgancia anche dai sindaci di turno e va avanti in maniera indipendente, allora assolutamente deve essere messo in freno perché poi mafia Capitale la pagano tutti i cittadini, noi prima parlavamo dei disservizi, i disservizi che ci sono è proprio per eventi come mafia Capitale perché poi i soldi pubblici si vanno a perdere. Se le carte, se l'analisi degli ispettori della commissione che attualmente sta lavorando in prefettura per esaminare questi documenti, se le carte dovessero andare nel senso di poter chiedere a quel punto un passo indietro al sindaco Marino perché si palesassero dei profili talmente gravi da poter chiedere addirittura lo scioglimento del comune, sarebbe le chiedo più irresponsabile andare avanti con un'amministrazione, le cui carte analizzate sono queste o sarebbe più irresponsabile far cadere un'amministrazione comunale nel momento in cui Roma si appresta ad essere vetrina in tutto il mondo per un evento come quello del Giubileo? Beh certo, sarebbero delle decisioni difficili, non vorrei che il Giubileo sia stato inserito anche per, diciamo così, su questo aspetto, non dico in maniera strumentale perché ci mancherebbe un altro filone però che venga utilizzato in tal senso, ecco. Il discorso è che poi per fortuna in Italia ancora ci sono delle leggi, ci sono dei procedimenti giudiziari che vanno avanti e quindi ripeto il discorso che faccio prima, a me piacerebbe che finalmente in questo paese chi ha delle responsabilità paghi perché abbiamo visto i disservizi, parliamo dei 20 miliardi di euro di debito della gestione commissaria del precedente sindaco, quella è una scura sulle future generazioni della città di Roma, allora io vorrei ancora una volta che chi è responsabile si assuma le sue responsabilità e paghi, quindi se purtroppo deve essere una decisione che va presa deve essere presa a Giubileo o meno che ci sia, perché ripeto andare avanti in questa situazione con un sistema che comunque l'abbiamo visto continuano ogni giorno ad uscire notizie, è un sistema che è infiltrato in qualsiasi tipo nella vita dell'amministrazione pubblica, quindi assolutamente va messo un freno. Flash prima di salutarla, bilancio, la discussione prosegue, prosegue oggi pomeriggio, adesso tornerà infatti in Campidoglio per seguire i lavori, lo farete e lo farà anche domani e dopodomani ad oltranza quando vi attendete il via libera, il bilancio. La votazione finale, questo non so perché purtroppo poi sono meccanismi sempre interni alla maggioranza, come diceva uno si aspetta, io pensavo addirittura di concludere stasera, figuriamoci, invece poi ieri vedi i soliti giochetti, faccio cadere il numero legale, non vengo in aula e quant'altro e quindi si va a tirare per le lunghe, però io penso massimo un'altra settimana e si concluderà il bilancio. Grazie, buon lavoro, Enrico Stefano, Movimento 5 Stelle, Assemblea Capitolina, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.